È stata una notte di ferragosto particolarmente impegnativa per polizia, carabinieri e guardie di finanza impegnati in una massiccia operazione di controllo interforze dei litorali agrigentini. A San Leone è stato effettuato un controllo a tappeto in tutti i locali della Movida, dove nella quasi totalità dei casi si stavano svolgendo serate danzanti senza le autorizzazioni necessarie. Un ragazzo di 17 anni, sempre agrigento, è stato picchiato e ferito al volto con un'arma a lataglio e per lui è stato necessario ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio che gli hanno applicato dei punti di sutura. In una delle vie più trafficate di San Leone, inoltre, una volante della polizia ha sventato un furto in una casa di villeggiatura. Il controllo interforze si è steso anche nelle spiagge, dove sono stati individuati alcuni falò con persone che bivaccavano nelle vicinanze e che avevano anche montato delle tende. Si tratta di attività, come previsto da apposita ordinanza, considerate abusive. Controlli massicci anche nel versante trapanese. I carabinieri della Compagnia di Trapani, durante la notte di ferragosto, hanno incrementato i servizi di vigilanza del territorio, potenziando i controlli lungo le principali arterie stradali e i luoghi sensibili al fine di prevenire ed accertare eventuali violazioni del codice della strada. A conclusione di queste attività, che hanno portato al controllo di oltre 100 veicoli e all'identificazione di più di 250 persone, è stato denunciato un cinquantenne di Siena per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono stati segnalati alla prefettura di Trapani 10 soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e sono state elevate numerose contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di oltre 11.000 euro, con il conseguente ritiro di due documenti di guida. Controlli interforze, ovviamente pure a sciacca, dove dopo la mezzanotte, come la tradizione, stabilimenti e spiagge sono state prese ad assalto. Pattuglie si sono mosse verso Capo San Marco, Sovareto e San Giorgio, mentre infine la Polizia Municipale ha contratto numerose multe per auto parcheggiate male o in divieto di sosta.